I cavalli sono in partenza partiti in vantaggio lungo la corda Iubris nei confronti di San Blas a cala quindi i frame per linee interne a centro pista classi tristi e in coda Edelvesia in vantaggio si mantiene allo steccato sempre Iubris sotto la minaccia di Acala a largo San Blas cerca spazio all'interno i frame poi Edelvesia siamo a 250 dal palo Iubris sotto la minaccia di Acala San Blas e i frame nel tratto conclusivo alla centro pista San Blas sta prendendo il sopravvento e nel finale è San Blas che si imbone nei confronti di Acala Iubris e i frame andiamo a rivedere le immagini di questa quarta corsa di Aniano con l'affermazione del numero 5 San Blas ancora bersaglio Pasquale Borrelli che ha mantenuto testa di tentativi di Acala fin sul palo Acala che precede di misura su Iubris per il posto d'onore quindi 5-1-7 il probabile e ufficioso arrivo della quarta di Napoli grazie a tutti 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 grazie a tutti